La classifica è quella che è, sarebbe meglio non guardarla, ma quello che conta ora è che lo spirito sia combattivo e che tutti diano il massimo fino alla fine. Per Rudolf le ultime dieci di campionato non devono essere un'inesorabile agonia, ma uno stimolo per sottolineare il carattere di una squadra che nonostante le tante avversità ha il dovere di crederci. A Udine l'attaccante ungherese ha rischiato di fare un bello scherzetto alla squadra più in forma del momento e anche a San Siro contro il Milan Rudolf promette una prestazione all'altezza contro la prima della classe. Secondo me si vede che noi ci crediamo anche con l'Udine che quest'anno fa molto bene, noi siamo stati uniti, c'era la voglia, noi ci crediamo ancora, rimane dieci giornate, noi vogliamo vincere otto, nove e poi la salvezza è qua. Però adesso pensiamo al Milan, la prossima giornata, poi adesso ho bisogno di tre punti. Sul futuro è ancora presto per parlarne, Rudolf è arrivato al Bari in prestito dal Genoa e il suo destino è legato alla società Rosso Blu, ma per ora quello che conta è chiudere degnamente la stagione con i Galletti. Nel mio futuro è questa dieci giornata, poi vediamo un po' cosa succede, io ci credo ancora perché Bari per me è stata sempre una squadra di Serie A e voglio aiutare, voglio fare bene sul campo per aiutare questa salvezza. Io sono in prestito a Bari, si deciderà fino all'anno da Genoa, da Bari e da parte mia, poi questa è ancora molto lontana.